Coordinare gli interventi, allestire nuovi spazi per arrivi di rifugiati che potrebbero essere numerosi nei prossimi giorni. Spetta alle prefetture il compito di tirare le fila di aiuti e sistemazioni in costante contatto con ministeri, regione, ma anche istituzioni del territorio, mondo del volontariato. A Verona le persone giunte dall'Ucraina finora registrate sono 350, molte sono ospiti di amici e parenti, ma già una sessantina hanno trovato posto ad Isola della Scala, a hub destinato alla prima accoglienza. Altri due grandi spazi sono in allestimento, entrambi in provincia. Verona è uno dei punti e dei nodi chiave di riferimento di queste persone che cercano un tetto, cercano vitto, cercano accoglienza, cercano aiuto e quindi dobbiamo essere pronti a rispondere a questa esigenza. Nelle prossime ore scadrà il bando per altri 250 posti nel Veronese, ma è anche al territorio che si rivolge il prefetto che ha incontrato i 98 sindaci chiedendo loro di mettere a disposizione strutture per ospitare piccole comunità. Pensiamo che se ogni comune metterà a disposizione dai 10 ai 15 posti avremo una capacità ulteriore di un migliaio di posti. I sindaci con i quali vi state coordinando stanno dimostrando disponibilità all'accoglienza? C'è una disponibilità importante da parte dei sindaci, adesso la misureremo alla prova dei fatti quando arriveremo alla definizione dei protocolli. Alcuni già si sono fatti avanti e con il Presidente della provincia stiamo lavorando per organizzare un momento in cui condivideremo questa nuova strategia.